Ciao a tutti ragazzi, eccomi in un nuovo video Con questo video mi farò un gameplay su questo gioco qua del Respawnables che mi ha fatto vedere un mio amico da qualche giorno ed è un gioco tipo Team Fortress e di quei tipi di giochi là è un gioco molto carino, io oggi l'ho già cominciato come potete vedere e andiamo a fare una partita in multiplayer il mio personaggio è stanco facciamo Team Fortress aspettiamo che si riconnetta il gioco è di sia disponibile per Android che per iOS, è gratis e necessità di connessione a internet anche per la locale quindi anche senza giocare online purtroppo l'unico svantaggio è questo io sto registrando con display recorder quindi laggerà bestia no, non lagga più di tanto questa morfa mi piace ecco, già mi hanno killato ci stronzi con la pistolina io mi metto qua su e aspetto di uccidere questo po' qua buono chi è uno stronzo che mi sta sparando qua sotto questo bastard da notare i bang ipad, sto qua si chiama ipad c'è una cazzo di pistolina questo qua può passiamo non mi spara è tanto un umore cazzo di nacre starò mi fa cagare mi prendo la mitraglietta anzi no, prendiamo ecco questa bestia madonna anche Sandro Lento come non so cosa lui mi killa certo ero bloccato mi bagga il gioco e tu mi uccidi un bastardo tanto questo no cazzo poi scappi fai paura una partita di prima un bastardo lo stavo killando si sconnette poi un altro e mi cambia l'ostro uno stronzo sfidi puttane mortali guarda un po' dove vai ipad su qua però non c'è un cazzo di vita sto qua mi killa ovviamente arriva quello maschinato e mi spara nel culo ipad di av proprio bello shottato che c'è lì? che c'è? c'è ipad ipad oddio ipad no mancano 9 secondi ho ucciso ipad e qualcuno si cercano di tentando di uccidermi mi cazzo sto parlando match finished ok sono livello sesto ho fatto 5 e 7 sta mappa andando in piacere che non ci ho visto un cazzo odio ste cose spawning c'è uno dietro aspetti una gente ammazza proprio prima stavo spawnando e uno mi ha ucciso non so come ha fatto mentre spawnavo non ero ancora spawnato non avevo neanche lei non avevo neanche i miei comandi niente e sto qua mi ha sparato e mi ha ucciso scusa io però ho sparato e mi ha ucciso a me tanto che mi arrivava la notifica questa è la storia che se mi arriva la notifica io non sparo che cazzo hai che inizio a sparare ma dove cazzo è o lei l'ha fatto il giro in 30 secondi ho fatto poi metto a fare il camp minca oh non ho fatto una kill altro che ultimo so sesto beh l'ho fatto 50 punti perché ho trovato uno di quei 5 gettoni non ho fatto una kill sto giocando davvero di merda poche lag e vabbè quello ci sta però la parte di merda lì sono tutti morti perché resta il personaggio per 10 minuti lì fermo che cazzo fai tu qua con sto cazzo di revolver quello è morto oh la prima kill buono sono sempre sesto ne cazzo siete io mo campero qua tanto mi arrivano da dietro quindi 2 kill saliamo sempre in sesta posizione mi piace il 6 voglio rimanere in sesta posizione c'è la sesta posizione rispetto al primo e tutti gli altri dove sono? boh ma perché tutte le volte che spavano c'è qualcuno qua sotto che vuole uccidermi ehi non si legge ma io ho la gente dietro al culo ma dove cazzo ma c'è quello lì che sta ricaricando tanto è morto buono buono tutte le partite cioè quando ho tempo ma del genere facciamo una miniserie diciamo su sta roba qua dato che comunque è meno impegnativo di dover mettersi a fare tipo video di tutorial o dei tweak o roba del genere e anche per cambiare un po' l'argomento che molti mi hanno chiesto di fare cominciare a fare un po' di gameplay aprire il secondo canale come vi avevamo già detto è un po' complicato adesso perché abbiamo dei problemi e quindi è meglio se faccio ogni tanto qualche video di gameplay su sta roba qua se mi interessano altri giochi sul cellulare oppure sul computer come volete voi probabilmente ne farò uno a breve su God Simulator tanto che parlo a me mi killano che comunque è un gioco scema non so però non è brutto sicuramente non mi piace abbastanza dato che l'hanno fatto tutti lo faccio anch'io vabbè vedo come sia possibile quella che me l'avevo usata prima io in un'altra partita è buona è buona però questo è meglio è mio è buono oh sono secondo oddio dove vai ipad dove vai SH con l'SH bianco lì la moto ha la mia stessa arma quello lì in vero ci ho visto male guardalo che l'ammazza le spalle è proprio stronzo però ho ucciso il primo adesso però ho quarto ero secondo mosso di nuovo quarto ma cos'è uh che culo vaffanculo ha piazzato la bomba di morì buono stronzo cazzo di SH ti odio adesso te le metto anch'io le bombe sotto il culo mentre ti sciotto cazzo di merda stavolta l'hai preso il culo l'hai ucciso bastardo ah ah su camelo stronzo mosso terzo e me lo merito primo però adesso SH sta partita va già meglio mi piace sul secondo di nuovo ricarica 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 ma vaffanculo SH di merda ma che cazzo non è SH che cazzo è una moto una macchina un taxi taxi you killed yourself certo bello mi sono ucciso da solo spirito patriottico mosso terzo e me lo secondo va a far cura quelli lì oh porco il figlio vaffanculo SH smetti di venirmi dietro eh e poi tanto adesso finisce la partita se arriva qua adesso mi ammazza mia lì come lo distruggo al prossimo l'obiettivo sarà distruggere voi make it a profit ero ero quarto ma sono chiuso con sesto ok ragazzi per questo video è tutto spero che vi sia piaciuto ditemi se volete continuare a vedere e controllare questa serie e per qualsiasi altra cosa scrivetemi e commentate mi raccomando iscrivetevi al canale per supportarvi ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ragazzi